Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo una serie di frese da legno. Si tratta di mini frese per legno. Vengono utilizzate su macchine rotanti, quindi CNC oppure mini trapanini e sono perfette per lavorare ogni tipo di legno. Vediamo che sono di varie forme. Abbiamo delle frese appuntite, cilindriche, a sfera, a cono, a cono invertito, quindi varie forme per i lavori più differenti, sempre su legno. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per il prossimo nostro video. A presto! Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!